Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrano in bilancia tendenze energetiche predestinate per il mese di ottobre 2024. Abbiamo la carta degli amanti, amici della bilancia. Quando c'è questa carta di solito generalmente si parla di amore. Può essere un amore verso gli altri, un amore verso se stessi e può anche parlare di quello che è una scelta tra il vecchio e il nuovo, ovvero tra il vecchio amore e il nuovo amore. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona se nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai video corsi gratuiti che sono presenti sul canale, che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Voi comunque date un'occhiata alla descrizione, poi se avete bisogno di maggiori informazioni vi basterà scrivermi un email. Andiamo a vedere l'energia disponibile amici della bilancia. La stella. Abbiamo la regina di coppe. un 6 di spade, un 2 di pentacoli, un 10 di bastoni, un 10 di spade, un 10 di spade, il mago. E qui ce ne sono due. Wow! 8 di bastoni e imperatore. Ok. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, quindi vi dirò un po' i messaggi che mi arrivano. Non so perché è tutto storto. Ok. E dopodiché andiamo a vedere settore per settore, quindi l'amore, sia che siate singole, sia che siate in relazione, il lavoro, l'economia e via dicendo. Partiamo da questa stella. È una bellissima carta. Mi parla di qualche tipo di desiderio, di qualche tipo di speranza, di obiettivo che probabilmente potresti avere all'inizio di ottobre o magari già anche alla fine di settembre per qualcuno. Andiamo a vederla. 10 di coppe e 9 di pentacoli. Per qualcuno potrebbe essere un desiderio, un sogno di indipendenza. Come vi dicevo, la carta degli amanti parla della scelta tra il vecchio e il nuovo. Il vecchio viene inteso come la famiglia di origine e il nuovo viene inteso come il nuovo amore, quindi la famiglia che si va a creare. E qui ho un po' come la sensazione che ci sia voglia di indipendenza, di lasciare appunto magari proprio la famiglia di origine. Per qualcuno può essere arrivato il momento di andare ad abitare da solo piuttosto che da sola o semplicemente iniziare a fare delle cose indipendentemente dal nucleo familiare in cui si vive. Andiamo a vedere la regina di coppe. Giustizia. C'è come qualcosa che si va a regolarizzare, direi a livello anche emotivo. E' la mente qua, con questo 6 di spade che adesso lo andiamo a vedere. Allora, la giustizia, regina di spade e diavolo. Può essere che si tagli con qualche tipo di atteggiamento magari emotivo che crea o ha creato fino ad adesso dei condizionamenti, delle schiavitù, delle tossicità. Perché sia la giustizia che la regina di spade sono carte che tagliano. Andiamo avanti, vediamo un 6 di spade. Sole e re di coppe. Io credo che davvero sia un distanziamento dalla famiglia qua. Perché anche il 6 di spade mi parla di allontanarsi dalle idee che si sono acquisite tempo indietro, molte volte durante l'infanzia. Per qualcuno questo 6 di spade può rappresentare un viaggio inerente appunto un figlio. Cioè, ho come la sensazione che ci sia uno spostamento da una famiglia ad un'altra, una cosa di questo genere. O da un posto, più che da un posto no. Non è tanto per adesso, adesso poi andiamo a vedere. Però, per adesso sento che è più una questione di movimento a livello mentale. Cioè, questo genere di pensieri era della mia famiglia, non mi appartiene più, io che pensieri voglio creare per me. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. 3 di spade. E 8 di spade. E' come se pensassi di dover sacrificare qualcosa facendo questa scelta. E per quello che c'è il condizionamento, su che cosa taglio, andiamo a vedere 10 di bastoni. 9 di spade. e carro. C'è voglia di lasciarsi indietro certi temi, ragazzi. Secondo me è proprio la questione qui degli amanti. E' proprio una scelta tra quello che ho già creato. E qui può essere la famiglia di sangue, piuttosto che la famiglia lavorativa. ognuno lo applichi alla propria realtà. Però per andare verso qualche cosa di nuovo. Solo che è come se il fare questa scelta mi condizionasse perché devo tagliare delle cose che comunque fanno parte di me, fanno parte del mio vissuto, di chi sono. Io credo che sia anche un po' per quello che c'è questo 3 di spade che mi parla di sacrificio, che mi parla di sofferenza. E qualcuno pensa di non poter far diversamente perché in questo momento, probabilmente con tutti questi condizionamenti, sente o vede, meglio detto, il bicchiere mezzo vuoto. E qui sento proprio questa esigenza di lasciarsi indietro dei pesi. Andiamo a vedere il 10 di spade. Regina di pentacoli e 9 di bastoni. Come se ci fosse ancora qualcosa da mettere a posto, qualcosa da irrobustire prima di fare questa scelta. Andiamo a vedere il mago perché qua è un 1, è una partenza, è un nuovo inizio. E qualcuno che cerca di concretizzare la propria realtà. E dopodiché finiamo con un 8 di bastoni e la carta dell'imperatore, quindi è come se arrivasse una comunicazione che poi concretizza. Allora, il mago è spiegato dalla torre, dall'appeso e da un fante di spade. E' come se dovesse prima distruggere per poi costruire. Datemi una carta per la torre. Morte, fante di coppe, 6 di coppe e fante. Guardate quanti fanti ci sono. Qui è come se qualcuno avessi bisogno, diciamo, di prendersi certi tipi di responsabilità. O, diciamo, tagliare con un certo tipo di, anche ingenuità se vogliamo, eh. Aspettate perché altrimenti non so come mettere le carte. Però sento che ce la farete. Ingenuità, perché sono tutti fanti e i fanti sono qualcuno che stanno iniziando, si stanno approcciando, diciamo, alla vita, al mondo del lavoro, un po' in generale, no? E quindi qui ho come la sensazione che quest'ideologia di sono solo un apprendista debba essere cacciata via. Guardate le cose da un altro punto di vista. C'è proprio come un atteggiamento da dover lasciare indietro. E qui, con il mago, realizzerete come manipolare, detto letteralmente, la realtà a vostro piacere, non gli altri, eh, ragazzi, la realtà. Quindi è un po' come lavoro su me stesso, tolgo tutti questi lati un po' sognatori, con queste coppe, un po' inesperte, con queste due carte. E vedo le cose da un altro punto di vista e inizio una nuova realtà. E andiamo a vedere come termina la lettura. Otto di... No, pensavo se fosse girata una carta. Otto di bastoni. 9 di coppe, direi che è una bellissima carta, eremita. Ok. Direi che alla fine del mese, ragazzi, avrete l'abbondanza, la prosperità, la concretezza, che è probabilmente l'indipendenza per molte persone, che qui si sta desiderando. Lo vedo un mese positivo. Vi dico, arriverà prosperità anche da un punto di vista finanziario e con questo pap, con questo imperatore alla fine della lettura. Però, andiamo per gradi. Allora, partiamo dall'amore. Allora, sento molto forte questo bisogno di creare una famiglia, ma fate attenzione perché non tutte le persone che vengono a bussare alla vostra porta sono l'ideale per creare il tipo di desiderio e di sogno che voi avete. Ve lo dico perché voi qua avete diverse carte spade, anche qui unici di spade, e poi c'è quel diavolo. Quindi diciamo che la mente forse non è delle più lucide. E anche allo stato emotivo, devo dire, che potreste vivere come degli alti e bassi che hanno bisogno di essere un po' ribilanciati. E diciamo che non c'è un terreno fertile perché possiate, perlomeno inizio mese, perché possiate, diciamo così, costruire una relazione in equilibrio con... Vi dico, potreste incontrare due persone nello specifico che vi interessano, perché qui ho anche un due di pentacoli, come se aveste questa indecisione in un certo senso. Potrebbe anche essere, invece del vecchio e nuovo, potrebbe essere una indecisione tra due persone nuove. Però vi dico, è un po' come se non ci fosse tutta questa predisposizione all'inizio del mese. A fine mese sarà già diverso, ok? A fine mese sento che sarete un pochettino più predisposti. Ma perché vi dico questo? Perché voi volete qualche cosa, avete questo desiderio di creare il gruppo, di creare... In realtà qua potrebbe essere lo staccarsi dal gruppo o il creare un proprio gruppo, ok? Un gruppo di lavoro, un gruppo familiare, un gruppo, non so, magari di collaboratori. Però è come se appunto tra l'indecisione della testa, tra tutte le varie emozioni che andrete a vivere o che arrivate, o con le quali arrivate da settembre, non vi permettono durante il mese di avere le idee chiare e quindi di... Così, intanto voi conoscete queste persone, schiaritevi le idee e poi vedrete che a fine mese arriverà, come dire, una maggior comunicazione, una maggior fluidità nel vostro modo di pensare e le idee saranno più chiare. Per le persone che sono in una relazione, allora, qui devo dire che c'è da ricalibrare gli equilibri. Qualcuno potrebbe anche volersene andare, magari per un viaggetto in solitario, o magari proprio potrebbe essere un cambio abbastanza importante. Non vedo rotture della coppia in realtà, però dipende in che fase voi siete della relazione. Però devo dire che qua, ragazzi, allora, sentimento ce n'è, ma dovete dirigervi verso questo imperatore, verso la concretezza, verso le regole, verso la costanza, perché quello è il giorno dopo giorno, l'esserci sempre, che costruisce la pienezza di cui ci parla il nove di coppe. Se siete in una relazione più o meno indefinita, allora, la relazione in sé mi sembra, come dire, corposa, che abbia del corpo, il punto è che ha solo un nucleo e non confini, non viene delimitata, non viene, se vogliamo, etichettata. Siamo fidanzati, siamo amici. Anche qui, ragazzi, c'è bisogno di mettere delle regole. Qui avete anche la giustizia, la regina di spade, l'imperatore. Ho come la sensazione che, anche il nome di bastoni vi dica un po', mettete delle barriere. Cioè, va bene tutto, però da qui in avanti no. Devo dire perché se siete in una relazione, diciamo, a tre, nel senso con una persona che è sposata, molti, ho come questa sensazione, che preferiranno rimanere in questa situazione per non rimanere soli. Piuttosto che rischiare di non avere nessuno, preferiranno essere quelli del secondo posto. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Va bene. Parliamo di persone intorno a voi. Io qui ho come la sensazione che potreste rivedere qualche familiare. Perché qui abbiamo anche un due di pentacoli. potrebbe essere come una persona, una situazione che si viene a ripresentare durante questo mese e ha fortemente a che fare con la famiglia. Mettiamola così. Poi mi direte voi nei commenti. Per quello che riguarda il lavoro. Allora ragazzi, se siete senza lavoro, devo dire che arriverà qualche cosa di nuovo. Avete la carta della stella. Da un lato mi dice, puntate in alto. Dall'altro potrebbe essere quello che è predestinato per voi, perché la stella parla di destino. Tenete presente che il 9 di pentacoli parla anche di lavoro autonomo, quindi se vi siete magari stufati di non trovare lavoro alle dipendenze di qualcuno, magari potreste iniziare a pensare di diventare degli imperatori, di creare il vostro impero. Comunque, c'è qualche cosa all'orizzonte. C'è anche la giustizia, che è una carta di contratti nel lungo termine. Ecco, magari non si parte proprio, anche se magari il lavoro dei vostri sogni non si parte proprio con lo stipendio dei vostri sogni. Però comunque è un inizio. Per chi è alle dipendenze di qualcuno, allora, da un lato ho proprio la sensazione che qualcuno voglia andarsene, voglia lasciare il gruppo di lavoro, voglia diventare autonomo, voglia realizzare i propri sogni, voglia togliersi come dei pesi, delle responsabilità, o semplicemente vuole togliersi da dosso il fare cose che magari, insomma, sono anni che fate e ne avete anche la barba fino alle ginocchia. E quindi ci sta pure. Abbiamo anche un carro qui, un mago, è come se ci fosse una sorta di movimento verso la vostra indipendenza, mi viene da dire. Quindi ci potrebbero essere dei cambi, quindi magari da lavoratori dipendenti qualcuno potrebbe o decidere o iniziare a pensare di diventare autonomo, per qualcun altro si tratta di un trasferimento, di uno spostamento a livello lavorativo. Ok? Non ho tanti assi, quindi secondo me è più un trasferimento piuttosto che un nuovo inizio. Cioè in un'altra azienda. Per chi fosse autonomo... Allora ragazzi, per chi fosse autonomo vi dico, soprattutto se la vostra azienda spende un sacco di soldi in carburante, o comunque è una parte importante del budget, io ho come la sensazione... Allora, potrebbe essere una cosa... Invece che spostarvi voi, sempre che possiate farlo, far venire gli altri più vicino a voi, oppure un consiglio che vi danno le carte è tutto quello che potete fare, fatelo online. e se per caso non siete in grado, perché magari come me siete due cose diverse voi e il computer, potete appoggiarvi a una guida, fatelo fare a qualcun altro. Però come la sensazione che vi dicano di... come vi posso dire... fare online tutto il lavoro che potete per poter risparmiare usura e carburante negli spostamenti. Stavo guardando se per qualcuno si potesse trattare di un cambio mezzi, ma... no. Ok. Mezzi di trasporto intendevo. Andiamo a vedere ragazzi il lato economico. Allora, devo dire che il lato economico con alcune accortezze non andrà male, non andrà male. Non vedo... non vedo grossi ingressi extra, diciamo il normale, quello a cui siete abituati. però vedo che sarete parecchio oculati nello spendere e quindi questo farà sì che a fine mese insomma il portafoglio ringrazi. È un periodo dove state pensando a che spese superflui tagliare, a che cosa vi condiziona e che potreste tagliare. Oppure è un lavoro che magari avete già fatto e state iniziando a capire bene adesso i risultati, quanto effettivamente avete risparmiato a cose per lo stile. Comunque niente di preoccupante. Se dovessimo guardare ragazzi la crescita che la vostra anima avrà in questo mese devo dire che si passerà dalla modalità diciamo fante perché voi avete tre fante alla modalità imperatore. è un po' come il togliervi certe ingenuità perché? Perché da un lato vi toglierete certe aspettative e quindi togliersi certe aspettative fa sì che il bagaglio sia più leggero. Ok? Faccio fin dove riesco. Ok? So che sto facendo del mio meglio di più non posso è inutile che mi aspetto di ricevere cioè di raggiungere magari questo obiettivo qui che è 100 raggiungo 50 e va bene. Questo è un po' come ok mi alleggerisco da solo di tutte le mie aspettative che ho. E poi vi ripeto io qua con tutti questi fanti sento parecchia innocenza che se ne va. Perché? Perché iniziate a vedere le cose da un altro punto di vista. Perché è ora di iniziare a creare la vostra realtà. Perché siete focalizzati sul creare rinnovare o mantenere il vostro impero. È una lettura abbastanza importante amici della bilancia eh fatemi sapere come vi risuona. Andiamo a vedere Osho che consiglio vi dà. Il coraggio è la carta della forza. E vedete come questo fiorellino nonostante sia sulle rocce quindi non ci sia terra ha il coraggio di crescere di spuntare di venire fuori di semplicemente splendere al mondo risplendere come vi posso dire. ok ultimo oracolo gestione gestione gestioni amministrative e qui vi dicevo un po' prima con l'imperatore c'è questione di se non sapete farlo voi fatelo fare a qualcun altro qui ci potrebbero essere con la giustizia anche delle questioni burocratiche però e mi parla del 15 del mese che viene ora io pubblico letture verso metà del mese precedente quello di riferimento alla lettura quindi dipendendo da quando voi l'ascoltate se l'ascoltate appena esce la lettura potrebbe trattarsi del 15 di ottobre se l'ascoltate la lettura già a ottobre si può trattare del 15 di novembre però è come se vi mettessero una certa urgenza nello sbrigare delle pratiche cari amici della bilancia questo è quello che avevo per voi spero che la lettura vi sia stata utile fatemelo sapere nei commenti se volete sostenere il canale mettete like iscrivetevi o condividete il video e nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email io poi vi mando la lettera e vi spiego come lavoro se invece volete andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale i video riservati agli abbonati hanno i titoli pubblici quindi i titoli li vedete se volete rendervi conto dei temi che vado via via trattando ok bene detto questo io vi ringrazio di essere stati qui vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao